Villa Giustiniani è di nostra proprietà, è diventata di nostra proprietà negli anni scorsi durante la prima consigliatura di De Caro, era di proprietà privata, abbiamo reperito le risorse per poterla acquisire come proprietà, queste risorse sono state reperite nell'ambito di una programmazione che era quella del PIRP di San Marcello e questa acquisizione ci ha permesso di effettuare già ben due candidature per il recupero di quella villa, di quella masseria storica che fra l'altro ha un meraviglioso ipogeo proprio nella parte sottostante la masseria e entrambe le candidature, ahimè una delle due era un Interreg Italia-Grecia, non ci hanno visto vincitori, non demorderemo appena ci saranno le condizioni per poter presentare un'ulteriore candidatura per un finanziamento di un recupero, immaginate che quella masseria va recuperata anche perché ha un vincolo che non si circoscrive soltanto al manufatto edilizio ma addirittura si estende su tutta l'area dell'ex giardino a servizio di quella masseria che dovrà essere in un certo senso ripristinato. Quindi andando nel concreto delle previsioni difficilmente che in questo ultimo anno di consigliatura avremo una cantilizzazione di un lavoro ma confermo che c'è un inserimento, un intendimento nel valorizzare quel bene, un bene che è coperto da un vincolo e sul quale le attività che si possono fare sono veramente molteplici incluso anche il recupero e la valorizzazione dell'ipogeo che addirittura ha un accesso indipendente esterno della masseria.